Conosci i tuoi campioni su Sportiva, la scheda del tuo idolo. Discendente di una famiglia toscana emigrata in Brasile, Angelo Benedito Sormani nacque nel 1939 a Jaú, cittadina dello Stato di San Paolo, nella quale fin da giovanissimo si mise in mostra come immarcabile realizzatore. Tanto che nel 1959 iniziò a giocare nel Santos come riserva del grande Pelé fino al giorno in cui il presidente del Mantova lo cercò per portarlo in Italia. Era il 1961 e di lì in poi iniziò la sua avventura in Serie A. 32 gol col Mantova, 6 con la Roma, 2 con la Sampdoria, più 45 con il Milan in un quinquennio indimenticabile dove vinse Scudetto, Coppa Campioni e Intercontinentale a fianco del Paron Rocco. Nel 1962 da Oriundo partecipò anche al Mondiale con l'Italia, mentre dal 1970 al 1972 indossò la maglia del Napoli con la quale realizzò altre sette reti.